è finito il nasale mi ha aperto tutti i regali adesso cosa faccio? proprio carina non è, guarda che naso da corvo che ha questo dente è tutto storto senti facciamo una bella cosa andiamo a giocare al nascondino? siii! violino vuoi giocare anche tu al nascondino con noi? che bella la città molto luminosa cosa sono bella? in quella casa? in quella casa è molto buona invito a me la Vanessa che ci penserai io a te? ma siamo nella nostra taverna ma Vanessa cosa sta succedendo? non lo so, lo scopriremo subito ciao ragazzi siamo Vanessa e Nastasia e ci siamo ritrovati in un portale magico e siamo arrivati in taverna nella casa nostra adesso non amo coppia che faccio il sesso fate silenzio andiamo a vedere chi c'è che ci penso io a far diventare quella mamma brutta e io bellissima come lo sono già? allora state dovremmo scoprire dove è la mamma quindi distrai la strella e io cerco la mamma Vanessa io ci sono mamma 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 sei qua? si va ne sono qui ok apro non si apre e chiusa mamma tutto bene? si scappa la pipì muoviti è stata rimasta sangue di occhio cacca dimostra la mamma diventa un brutto mostro mamma di gas me veneno di scarafaggio mamma di gas me mamma di gas me veneno di scarafaccia diventa una principesca di un bel villaggio ma sono diventata più bella come il solito Anna ha trovato una mamma però purtroppo la porta è chiusa alla mamma scappa la pipì e dobbiamo cercare la chiave e tu devi distrare la befana va bene bene ok io cerco la chiave befana blu la chiave non trovo la chiave ok io schifo andiamo salvare la mamma dai vanessa muoviti ok io mamma mamma e mi stavo annoiando mamma non ha mandato Vanessa dobbiamo liberarci della befana dobbiamo pensare a un incantesimo per farla sparire allora fammi pensare acqua fuoco ali di bosco ce l'ho ce l'ho occhio manocchio prezzemola e finocchio oddio cosa ho combinato ma ne ho sbagliato ho fatto diventare la befana un finocchio ma come dobbiamo fare sparire questo finocchio per sempre pensiamo a qualcosa patata patatella vola di qua vola di là ci sono vola di qua vola di là la befana a casa ritornerà ci abbiamo fatta finalmente siamo libere adesso vanè dobbiamo tornare su si andata via la frega vi andata via la frega vi andata se dobbiamo andare su dai muoviti andiamo dal portale ma va saliamolo alle scale siamo a casa nostra a casa ma veramente eravamo già a casa eh come eravamo già a casa eh si eravamo giù nella nostra taverna però abbiamo scoperto che in casa abbiamo un portale magico e chissà la prossima volta dove ci porterà la tirateria c'è una fame che stanchezza ragazzi che giornataccia beh ma come sei carina ma lo sai che ti voglio tanto tanto bene sei proprio una befana simpaticissima sei la befana più simpatica del mondo questo nasino è perfetto e questo dentino che tenerezza che mi fa ciao ragazzi se il nostro video vi è piaciuto e se la nostra befanina vi è piaciuta iscrivetevi al canale attivate la campanella e non perdetevi nessuno dei nostri video e se vi va condividetelo con i nostri amici non bisogna mai giudicare nessuno bisogna sempre volere bene a tutti avete capito? ciao un bacione a te lasciate un like in questo video io ho le mani tutte poche ciao ciao Befanina stavo scherzando io tu mi piaci ma secondo te una vecchietta come te non mi piace era solo uno scherzo perché ti sei arrabbiata? stavo scherzando stavo scherzando stavo scherzando stavo scherzando stavo scherzando stavo scherzando Grazie a tutti. Grazie a tutti.